Non sono soddisfatti i lavoratori dei nuovi cantieri a Puania di Marina di Carrara. Quella che doveva essere una giornata decisiva per il futuro dell'azienda navalmeccanica si è aggiunta alle tante riunioni interlocutorie, con l'unica differenza che questa si trova molto vicina alla fine di marzo, termine ultimo per l'acquisizione della nave delle ferrovie dello Stato. L'incontro al Ministero dello Sviluppo Economico tra governo, istituzioni locali, invitaglie e sindacati ha concluso poco, un verbale che sostituisce il precedente protocollo d'intesa per l'accordo di programma, nel quale nella forma ha depennato il temuto termine liquidazione nel momento in cui dovessero cessare i carichi di lavoro, ma nella sostanza, a detta dei lavoratori, è rimasto pressoché lo stesso. Il ricatto rimane, hanno commentato dalla RSU. In questo modo il governo vuol far decidere i lavoratori, mettendoci in una condizione di bere o affogare. Infatti l'acquisizione della commessa delle ferrovie sarà soggetta all'accettazione del nuovo documento del Ministero, che sarà discusso in assemblea dai lavoratori venerdì 25 marzo.